La Camera di Commercio di Cosenza, oltre ad offrire un'infinità di servizi ai propri associati, vanta anche una storia ultracentenaria. Infatti, la sua costituzione avviene attraverso un reggio decreto risalente al 5 ottobre 1862 e il primo regolamento interno fu deliberato dal Consiglio Camerale, ottenendone l'approvazione con un decreto del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio. Io capisco il governo che le piccole Camere non hanno motivo di resistere, li fa accorpare, però devono assistere il territorio. Non abbiamo questo problema. Ha fatto il taglio sul diritto annuale del 35%, ma nonostante tutto noi abbiamo la miglior performance anche in questo. Anche se poi io non sono d'accordo perché sul diritto annuale, che è la media 88 euro, che è un'impresa in realtà paga, significa meno di un caffè al giorno, immaginate togliendo questi 88 euro all'impresa tutti i servizi che le Camere poi non gli possono offrire. Vi faccio un esempio per tutti. Lei da casa può collegarsi e vedere i miei bilanci della mia azienda. Questo significa essere trasparente e sapere il concorrente che cosa fa, ma lo può fare da tutta la parte del mondo. Questo è l'unico sistema di registrare imprese che c'è all'Italia e lo curano le Camere di commercio. Lei può immaginare i protesti. Noi chiudiamo i protesti, quindi le imprese che in realtà hanno avuto difficoltà. Deve pensare anche ad esempio all'ufficio metrico e quindi diversi consumatori, diversi cittadini. Noi controlliamo tutti i rifornimenti, noi controlliamo le gelerie, noi controlliamo i supermercati. Sono tutti servizi che in realtà diamo gratuitamente e ancora andiamo a potenziare questi servizi. Deve pensare anche il fatto da giustizia alternativo, quindi l'albitrato che si fa a Quinterno, quanto costa, l'OCC, l'organismo di controllo che in realtà è dell'anticrisi, che siamo uno delle prime Camere di commercio che abbiamo fatto richieste. Questo significa assicurare a tutti i consumatori e quindi bloccare l'equitalia perché un'impresa che è superiore a 200 mila euro è soggetta a fallimento, porta il libro in tribunale e si bloccano i conti delle banche e dell'equitalia e così via. Un consumatore questo non può farlo. Ecco, con questo organismo questi nuovi servizi che ci mettono a disposizione, anche la Comunità Europea, significa dare anche un servizio ai cittadini.